La partita della sanità passa dal governo, il senatore Ruta ha di nuovo sollecitato Frattura a dare una svolta, sono contrario al commissariamento, ha detto il parlamentare, ma a questo punto Renzi deve intervenire e risolvere la questione. Iorio e Patriciello, i due si parlano, dopo aver presentato il nuovo soggetto politico, l'ex governatore tesse la trama delle alleanze, a sorpresa l'incontro con l'euro parlamentare di Forza Italia. Sfrattato dalla piazza, minaccia di buttarsi a Campobasso, momenti di tensione per la protesta del titolare del gazebo in corso Bucci, a Milcare di Iorio incatenato, ha avuto anche un malore. Nessuna violenza si sgonfia il caso, a Isernia ha rimesso in libertà lo straniero accusato di abusi sessuali sulla sorella minore della sua convivente. I primi esami lo hanno escluso. Le molisane non vanno oltre il pari, segno X per Campobasso, Termoli e Agnone, queste ultime fermate in casa nel basket di serie B, arriva la salvezza anche per l'Isernia. Buon pomeriggio dalla redazione di Telemolisi, edizione delle 14 del nostro telegiornale. Dunque la sanità resta il tema centrale della agenda politica, ma si può allargare sicuramente il campo e dire che sulla sanità, come abbiamo visto adesso nei titoli di Copertina, si gioca la partita decisiva per tutta la regione, considerati i sacrifici che da anni ormai i molisani stanno sopportando per avere un servizio migliore, sacrifici che però non danno alcun risultato. Allora sulla questione è tornato ad intervenire anche il senatore del Partito Democratico, Roberto Ruta, il quale si è detto contrario al commissariamento, ma a questo punto, dopo aver di nuovo sollecitato ad un cambio di passo, il governatore Frattura ha detto che è indispensabile anche un intervento di Renzi. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Nei prossimi giorni le norme attuative del decreto Balduzzi sui tagli alla sanità, ormai firmate e controfirmate da tutti, verranno pubblicate sulla gazzetta ufficiale. Assorbite in parte le polemiche sulla mancata opposizione della regione e sull'assenza del governatore Paolo Frattura alla conferenza Stato-Regioni dello scorso 5 agosto, resteranno le macerie di un sistema sanitario stroncato nella sua funzione essenziale di garantire il diritto alla salute. Intanto oggi è intervenuto anche il senatore Roberto Ruta e ha riconfermato la necessità di un incontro urgente con Matteo Renzi per dire no al commissariamento deciso dal tavolo tecnico nazionale dopo l'ennesima bocciatura sull'operato di Paolo Frattura. Avevo già chiesto al governatore lo scorso 16 marzo di ottenere senza indugi l'incontro con Renzi perché è l'unica strada possibile per tutelare i molisani, ha detto il senatore. Ruta ha poi incalzato Frattura sulle diverse opzioni per garantire il diritto alla salute dei molisani, deroga al decreto Balduzzi, prevedendo almeno un DEA di secondo livello per ogni regione o in alternativa istituendo l'azienda ospedaliera universitaria, autonoma e indipendente dall'ASREM. Nello stesso incontro con Renzi è necessario sollecitare, ha aggiunto Ruta, la rateizzazione del debito sanitario e il riconoscimento dell'area di crisi o la stipula dell'accordo di programma con misure finanziarie che abbiano in considerazione anche Campobasso, Termoli e il Basso Molise. Sulla sanità, infine, Roberto Ruta ha fatto riferimento ai deliberati dei consigli comunali di Campobasso i Serni e Termoli che hanno ribadito la necessità di avere il Cardarelli come DEA di secondo livello e i Serni e Termoli di primo livello. Confermo, ha concluso il senatore, che la delegazione parlamentare sarà presente e determinata per dire no al commissariamento e per difendere il diritto costituzionalmente garantito alla salute dei molisani. Resta da capire però se i renziani Paolo Frattura e Michela Fanelli riusciranno ad ottenere l'incontro con il capo del governo e se avranno risposte positive. Al momento, tale ipotesi appare del tutto improbabile. Intanto, per effettuare una visita cardiologica a Via Petarella a Campobasso, corrono al poliombulatorio 208 giorni di attesa. Uno solo, invece, se si sceglie, è quello di Castelmauro o di Larino. Emerge questo dato dal rapporto dell'azienda sanitaria regionale del primo aprile sui tempi medi di attesa. All'ospedale veneziale di Sernia le attese sono di 70 giorni, 7 al Santissimo Rosario, 21 al Caracciolo, 142 giorni al Santimoteo di Termoli. E a Isernia si continua a parlare di politica dopo la presentazione del nuovo soggetto di Michele Iorio, che tesse le trame per le alleanze e, a sorpresa, nel fine settimana ha incontrato l'Europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Magari non tornerà lui a fare il governatore del Molise, magari avrà solo il ruolo di padre nobile del nuovo centrodestra molisano, magari infine resterà a casa a fare il nonno, lasciando spazio agli altri. Ma una cosa è certa, Michele Iorio ha disseppellito l'ascia di guerra ed è pronto a scatenare una crociata contro il governo regionale di Paolo Frattura. Il Molise non ne può più di questo modo di amministrare la regione e dopo che se ne sono accorti persino i due padrini politici di Frattura, ovvero Ruta e Leva, Iorio ha fiutato il vento, ha capito che sono ricominciati i giochi ed è partito lancia in resta, buttandosi come un falco sulle contraddizioni della maggioranza che governa la regione. Infatti la sua prima mossa, dopo la convention di venerdì, è stata quella di incontrare subito dopo Aldo Patriciello, uno dei maggiori alleati di Frattura. È sempre a Isernia e sempre all'Hotel Europa. Un incontro che, stando ai resocondi ufficiali, è stato organizzato per parlare di Forza Italia e delle prossime elezioni amministrative. Gli esiti del faccia a faccia tra i due big del centrodestra non sono stati diffusi, ma è certo che la notizia ha fatto rumore per due ordini di motivi. Il primo è la fine del gelo che persisteva tra Iorio e Patriciello fin dal 2012, quando l'euro parlamentare disse chiaro e tondo che il tempo di Iorio era finito. Il secondo è a comunione di intenti che sembrava inattaccabile tra Patriciello e Frattura. Ma l'eurodeputato è uno che fiuta l'aria e dopo gli affondi di ruta e leva, anche lui deve aver capito che i giochi si stanno riaprendo, perché in tanti, da una parte e dall'altra, già pensano al dopo Frattura. Anche se sembra decisamente avventato pensare a 11 consiglieri regionali, tanti ne servono, pronti alle dimissioni e pronti a rinunciare a oltre 10.000 euro al mese. Intanto Michele Iorio, dopo il buon risultato di Isergia, sta già organizzando i suoi due prossimi appuntamenti con la gente. Il primo a Capobasso per parlare di sanità, il secondo a Termoli per affrontare il tema delle infrastrutture. A Montenero di Bisaccia invece il centro-sinistra ha scelto il proprio candidato per la corsa alla carica di sindaco. Si tratta di Nicola Palombo con le primarie evidentemente. Ce ne parla in questo servizio. Manuela Iori. La coalizione di centro-sinistra Montenero di Bisaccia, il suo candidato sindaco, si chiama Nicola Palombo a 32 anni ed è il segretario del circolo del Partito Democratico. Con 442 preferenze ha vinto le primarie, battendo gli sfidanti Giuseppe Chiappini, consigliere comunale uscente che ha ottenuto 331 voti, e Aldo Pacilli, esponente della società civile che si è fermato a 104 preferenze. In 900 dunque ieri a Montenero hanno scelto il candidato di coalizione, appoggiato anche da SEL e IDV. Non hanno partecipato invece i dipietristi. Sarà dunque una corsa a 3 quella per la carica di sindaco a Montenero di Bisaccia, visto che Nicola Palombo sfiderà a Nicola Travaglini, sindaco uscente, e Nicola Dascanio, ex presidente della provincia, candidato con la lista Montenero vince. Anche qui è arrivata la primavera, è stato il commento a caldo del giovane Palombo. Entusiaste anche le dichiarazioni del segretario regionale del PD, Micaela Fanelli. Ha vinto un giovane preparato, un ottimo candidato, ha proseguito la Fanelli. In bocca al lupo a Nicola Palombo al centro-sinistra. In bocca al lupo perché si svolga la migliore gara possibile, perché ci sia un ricco confronto di proposte, perché verso il 31 di maggio si registri il medesimo spirito di leale competizione conosciuto oggi ha concluso, confermando che le primarie sono un efficace strumento democratico per coinvolgere i cittadini nella scelta della classe dirigente. Complimenti e pieno appoggio a Palombo anche dal senatore Roberto Ruta. Una cosa è certa, comunque va, del nuovo sindaco si chiamerà sicuramente Nicola, visto che tutti e tre i candidati hanno lo stesso nome. Una trentina di persone hanno partecipato stamattina al nuovo presidio promosso dal Comitato dei precari della protezione civile davanti a Palazzo Vitale, una giunta regionale. A 84 lavoratori, lo ricordiamo, a fine del mese scorso sono scaduti i contratti a tempo determinato di tre mesi, contratti che non sono stati ancora rinnovati. I tecnici che sono stati impegnati nella ricostruzione del dopo terremoto chiedono dai vertici della Regione risposte sul loro futuro. Un analogo presidio si era già tenuto il 2 aprile. I momenti di tensione ci sono stati invece oggi in centro a Campobasso dove il titolare di uno dei gazebo che sono presenti nella zona di Corso Bucci davanti alla ex banca di Napoli, per intenderci, ha protestato in modo piuttosto clamoroso dopo aver subito uno sfratto. Si è incatenato ed è salito sulla struttura minacciando di buttarsi di sotto. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Voglio bene. Se tutto questo lo faccio per te e per la mia famiglia, se non c'eri tu e non c'è la mia famiglia, ero un delinquente. A me non mi possono sistemare perché noi siamo bravi persone. Adesso ti chiedo scendi e scendi e affrontiamo diversamente. Dopo 13 anni dolci e balocchi, la bancarella conosciuta da tutti i bambini di Campobasso è stata sfrattata. Questa mattina alcuni vigili urbani accompagnati da un gruppo di operai del comune hanno smontato la struttura e riconsegnata tutta la merce. E mentre i vigili davano esecuzione al provvedimento di sgombero, il titolare della piccola attività commerciale a Milcare di Iorio si è incatenato sul tetto del gazebo. La moglie tra le lacrime ad assistere alla scena. L'uomo ha accusato l'amministrazione comunale di averlo cacciato da quel posto senza motivo. Da quanti anni è qui? Sono 13 anni che sono qui. Insomma tutto è andato... Dopo il terremoto del 2002 perché noi abbiamo ancora in essere un'azienda all'ingrosso di alimentare, ridorciare alimenti coloniali e bibite. E poi che è successo? Dopo il terremoto... Stai a parlare con l'assessore Carmelo Parpiglia e Carmelo Parpiglia mi mise su questo posteggio. Voi dovete lasciare questo posto, mi hanno dato diciamo tre opzioni, quali sono e perché non le accettate? Allora la prima opzione che mi hanno dato è un piazza della Repubblica vicino ad Ovidio, c'è anche un edificolo in essere, uno nel parcheggio, che là le macchine vanno a parcare. La seconda opzione mi hanno proposto nel parcheggio comunale di Viale Manzone dove c'è stato un fruttivendolo natale che là ci ha fallito e anche là le macchine vanno a parcare. L'unico posteggio che potrebbe essere interessante è via Trinisono, angolo via Monsignor Bologna, l'ex incubatorio, però in quell'angolo lì per me è pericolosissimo perché se una macchina si ferma succede un incidente a catena. Senta, allora come intende muoversi? Intanto dovrà andare via da qui. Certo, io non ho fatto nessuna opposizione, stanno smontati, altiché giovedì e venerdì io li ho pure aiutati a imbacchettare il tutto. Io ho proposto, io devo vendere solo caramelle e cioccolatine, mettetemi a villetta dei cannoni, all'angolo, saranno anche le giostrine, mettetemi là solo caramelle, ne lo scrivete, solo caramelle, solo cioccolatine, solo cosa nasconde. Io ci vado da stasera perché io ho bisogno solo di lavorare onestamente e non voglio fare illeciti, punto. In tarda mattinata l'epilogo a Milcare di Iorio è stato colto da Malore. Sono arrivati i vigili del fuoco che lo hanno aiutato a scendere i sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ospedale, il tutto mentre gli operai del comune continuavano a smontare e portare via tutta la merce. L'assessore a commercio Salvatore Colla Giovanni ha replicato così alle accuse che gli sono state mosse. Io oggi rimango un poco sconvolto perché sembra che sto chiudendo un'azienda con 400 dipendenti che legalmente può rimanere aperta. Ho massimo rispetto anche della singola persona, come ho detto anche ad altri colleghi però bisogna rispettare le regole. Non mi si può dire che l'assessore Colla Giovanni sta facendo una forzatura, è disumano oppure gli attacchi che riceve in queste ore di tutto e di più. Le regole rispettiamo oppure ci stiamo tutti quanti in autogestione. Si sgonfia il caso a Isernia della presunta violenza sessuale che a giudicare dai primi esami non c'è stata. Allora lo straniero accusato è tornato in libertà. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Gli esami effettuati in un ospedale del Casertano avrebbero confermato piccole lesioni compatibili con un'aggressione ma non tali da consentire un fermo di polizia giudiziaria per violenza sessuale. Detto in altre parole non ci sarebbe stato alcun abuso ai danni della minorenne e ciò emergerebbe anche dagli altri elementi raccolti finora finiti tutti nel fascicolo del sostituto procuratore del Tribunale di Sernia Federico Scioli. Nelle prossime ore dovrebbero esserci ulteriori accertamenti ma al momento una cosa è certa. Lo straniero di 30 anni, originario dell'Est Europa, ha lasciato il carcere di Ponte San Leonardo ed è tornato in libertà. Era stato fermato lo scorso weekend dalla squadra volante di Sernia perché era stato accusato di aver aggredito e abusato della sorella minore e della sua convivente a poche ore dalla sua partenza alla volta del suo paese d'origine. La polizia era intervenuta in seguito alla segnalazione giunta come da prassi dal pronto soccorso del Veneziale dove la bimba era stata accompagnata dalla madre e da un'altra familiare. Agli uomini della volante, che si occupano del caso insieme ai colleghi della mobile, era stato riferito di un presunto caso di violenza sessuale. Le verifiche successive hanno tuttavia alimentato più di qualche dubbio. Per ora resta in piedi solo l'ipotesi della violenza privata, ma per l'avvocato di fiducia dell'indagato Luigi Morgillo è stato solo un equivoco che sarà chiarito. In ogni caso illegale, pur escludendo in maniera categorica l'accusa più grave formulata in un primo momento, preferisce andarci cauto, ritenendo assolutamente prioritario tutelare la bambina e l'intero nucleo familiare. Adesso andiamo a Termoli dove da qualche giorno si discute sulla questione dell'ampliamento della Momentiv, una delle aziende chimiche del nucleo industriale. C'è stato un dibattito aperto al pubblico, sentiamo la nostra redazione. Resta alta l'attenzione sull'ampliamento della chimica Momentiv a Termoli, dove il Movimento 5 Stelle insieme ad altre associazioni del territorio ha promosso un dibattito che si è tenuto al Cinema Sant'Antonio. Tanti gli interventi che si sono alternati in sala e che sono stati moderati dal giornalista Paolo De Chiara che ha tracciato il quadro di un molise dove è possibile fare di tutto di un territorio martoriato. La professoressa Marcella Stumpo della Fondazione Milani ha puntato il dito contro una classe dirigente pessima, contro un monitoraggio ambientale inadeguato ma anche contro l'inerzia dei cittadini. E poi ha ricordato come l'Asrem sull'ampliamento aveva dato un parere allarmante, sostenendo che non era il caso di portare avanti un progetto in un territorio in cui i valori sono al limite della soglia, un territorio dove manca ancora il registro dei tumori. Ci rendiamo conto che questo territorio ha già dato tanto. Insistono sul nucleo industriale di termoli numerosissime aziende, delle quali molte sono chimiche. Allora noi vogliamo capire solamente una cosa. Perché continuare ad espanderci per avere 23 posti di lavoro, o che siano 30 o che siano 40? Sono assolutamente nulla rispetto al rischio enorme che noi tutti corriamo. In sala anche l'avvocato Massimo Romano che ha curato il ricorso del CODA con scontro l'ampliamento. Il ricorso ha censurato una serie di profili di legittimità e di merito di carattere sia ambientale che legati alla salute dei cittadini. Abbiamo rilevato delle carenze istruttorie e delle palesi violazioni di legge che a nostro avviso avrebbero dovuto essere rilevate prima ancora che venissero rilasciati i provvedimenti. Critiche anche dal presidente di Corea Vincenzo Musacchio che ha ricordato il caso di Castelmauro quando 40 anni fa la regione autorizzò un deposito di scorie nucleari in un'abitazione civile. Musacchio ha lanciato anche un controllo che Corea sta facendo sul latte materno. Abbiamo costituito un comitato, un comitato di difesa della salute pubblica e ci occupiamo in maniera esclusiva di ambiente con persone competenti, medici, chimici, biologi, esperti appunto in materia ambientale, ma ci occupiamo anche degli aspetti giuridici, degli aspetti tecnici. In questo contesto adesso il nostro comitato sta ponendo in essere un'azione importantissima. Insieme a un progetto che si chiama Punto Zero raccoglieremo il latte materno nel Basso Molise e lo analizzeremo per capire se ci siano nessi di causalità con l'inquinamento e con il latte delle mamme. Intanto a Termoli segnalano incuria, abbandono e devastazione nel parco comunale dopo l'allagamento a causa della tracimazione del torrente che lo attraversa la zona dei giochi, dicono gli sportivi della città che ogni giorno frequentano il parco per giocare a tennis o per fare jogging, che la zona è quasi inutilizzabile. Ora parliamo di una partita di beneficenza in programma a Campobasso il 20 aprile prossimo. L'iniziativa è destinata in beneficenza ed è stata organizzata dall'Istituto Pilla con l'idea di sostenere Dynamo Camp. Ci spiega di più Silvia Valente. Si dice Paul Newman e si pensa allo sfavillante mondo di Hollywood, ma il grande attore americano alla gloria e al successo, quasi a voler ricambiare per la fortuna ricevuta, ha risposto con un motto divenuto ormai celebre, Let's give it all away, diamo tutto via. Era il 1988 infatti quando insieme all'amico scrittore Aaron Ochner fondò l'associazione Hole in the World Camps con lo scopo di realizzare programmi di terapia ricreativa per i bambini gravemente malati. Dal Connecticut il progetto si è allargato a tanti altri paesi, tra cui l'Italia, dove Newman ha potuto contare sull'appoggio indiscusso di un amico fidato, l'imprenditore di Campobasso Enzo Manes, che ora vive e lavora a Firenze. Nel 2007 Manes ha fondato l'associazione Dynamo Camp, attualmente l'unica affiliata alla rete internazionale ideata dall'attore americano e da allora ha ospitato fra le colline di San Marcello Pistoiese più di 5.800 ragazzi. Nuoto, cavallo, teatro, tiro con l'arco sono solo alcune delle tante attività proposte ai giovani ospiti, ragazzi dai 6 ai 17 anni che soffrono di gravi malattie e che presso il Dynamo Camp ritrovano un sorriso grazie all'aiuto e alla generosità dei suoi associati. L'esperienza di Enzo Manes e dei suoi collaboratori arriverà anche in Molise quando, in occasione di una partita di pallone, saranno ricavati i fondi necessari da destinare alla sede toscana, che da anni organizza eventi di vario genere, fra cui la prestigiosa asta di Lifestyle Italiana. Protagonisti dell'evento benefico a Campobasso saranno gli studenti dell'Istituto Pilla, che affronteranno sul campo di calcio la nazionale di amici il prossimo 20 aprile. È un evento molto bello, organizzato dalla dirigente della nostra scuola, la professoressa Gianfagna, in collaborazione con il presidente dell'Ions della sezione di Campobasso, Francesco Manocchio e i fondi andranno a favore della Dynamo Camp, quindi un'attività diciamo finalizzata al sociale. Una nostra squadra di studenti dei tre indirizzi, quindi dell'indirizzo Istituto Tecnico Economico, Ambiente e Territorio e l'Istituto per l'Agricoltura parteciperanno a questa attività una squadra di ragazzi selezionati, parteciperanno a questa partita del cuore, così denominata lunedì 20 alle ore 15 presso lo stadio di Selvapiana e invitiamo anche tutti a partecipare e anche a venire presso il nostro istituto con sede in Via Veneto per l'acquisto dei biglietti. Il 26 gennaio 2015 Paul Newman avrebbe compiuto 90 anni e per celebrare la sua generosità la figlia Clea ha deciso di organizzare una serie di eventi per ricordarlo, ma soprattutto per raccogliere la grande eredità morale lasciatagli dal padre. Clea Newman sarà infatti presente anche a Campobasso durante il match calcistico e in questa occasione ritroverà uno dei più cari amici del padre, Enzo Manes, che da Molisano ha contribuito a dare lustro alla regione con il suo impegno profondo in una iniziativa dal così alto valore sociale. Parliamo ora di un nuovo sistema economico sperimentato negli ultimi periodi, Samex.net promosso dalla ConfCommerce in collaborazione con la regione Molise. Sentiamo di che cosa si tratta nel servizio di Valeria Farina. Samex.net è una piattaforma web che gestisce una comunità di imprese, professionisti, cittadini e società no profit che hanno la possibilità di scambiare bene i servizi senza utilizzare l'euro, compensando debiti e crediti. Lo abbiamo ritenuto un progetto valido, ci sono già altri progetti a livello sperimentati in altri territori italiani, ma noi abbiamo ritenuto questo progetto della Samex estremamente convincente e anche perché è stato fatto proprio dalla regione Molise. Il circuito Samex.net è il primo circuito di credito commerciale nato in Molise ed è sostanzialmente un network, una comunità di imprese, di professionisti, di dipendenti delle aziende iscritte e di associazioni del terzo settore che entrando a far parte di questa comunità hanno la possibilità, tutti gli iscritti che ho menzionato, di scambiare bene i servizi senza utilizzare l'euro. Gli iscritti hanno la possibilità di utilizzare un conto corrente di home banking tradizionale come quello di tutte le altre banche con la particolarità però che non è nominato in euro ma è nominato nella nostra moneta locale che si chiama appunto Samex e che è ancorata all'euro alla parità. È un sistema economico pensato per sostenere la domanda, gli scambi sul territorio trattenendo così le ricchezze nei confini regionali trattandosi di un circuito chiuso. Il circuito Samex offre la possibilità alle imprese di qualsiasi settore produttivo e dimensione aziendale di aderire alla comunità senza utilizzare l'euro e con una quota di adesione annuale. Le imprese che aderiscono al circuito Samex avranno quindi la possibilità di scambiare bene i servizi. Abbiamo quindi deciso come Commercio Molise di cofinanziare la quota di adesione al circuito Samex per le prime 100 imprese nostre associate che vorranno aderire al progetto. Samex.net è già sperimentato da altre sette regioni italiane e nasce da Sardex.net nato già quattro anni fa in Sardegna. Questo è il primo risultato del progetto di aggregazione delle due confcommercio provinciali. è stato il primo obiettivo che abbiamo voluto mettere in campo, proprio quello di unificazione per dare dei servizi migliori e sicuramente molto più vantaggiosi per le aziende di entrambi i territori. Questo circuito nella nostra regione vanta già più di 200 imprese iscritte con un valore di scambio che superi i 500.000 Samex. Per maggiori informazioni consultare il sito circuitosamex.net Un appuntamento prima di salutarci. Oggi parte il laboratorio di scrittura di Ti racconto un libro promosso dall'Unione Lettori Italiani. Il laboratorio ha lo scopo di aiutare gli scrittori a trovare il canale dove indirizzare la propria capacità espressiva. I lavori saranno diretti da Emanuele Trevi, secondo al premio Strega del 2012. Per partecipare al laboratorio è necessario compilare la scheda sul sito unionelettoritaliani.it. Si comincia oggi dalle 15.30 alle 17.30 nella sala Mancini del comune di Campobasso. Ed è tutto. Con questa edizione delle 14 ci fermiamo qui. Vi lascio alle previsioni del tempo. Noi ci vediamo alle 15 per gli aggiornamenti. Grazie e a più tardi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.